che purtroppo a malincuore nonostante tutto abbiamo già registrato e fatto il videoclip il video con questo pezzo di merda del signor Francesco D'Aleo non sarà affatto non uscirà né la canzone né niente ragazzi però la cosa è triste che io divento un pazzo che oggi era a tavola con me ragazzi qua prima mangiavamo insieme fino a prima e poi fai queste merdate Francesco D'Aleo te sto cercando prima o poi ti piglio ragazzi io vado in Puglia ho 4 e mezzo oggi D'Aleo D'Aleo hai sei un pezzo di merda Sailor Moon pezzo di paesano di merda come ti prendo prima si erano detto no che faceva e prima un po' ti prendero po 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 D'Aleo D'Aleo facciamo arrivare questa diretta a Francesco D'Aleo magari sarà una cosa più bella me la condividi sulla mia pagina per favore non ti offendere già siamo 500 dai mi stava fangendo amici se non si condividi è finito dai e frate ma Marco Domenico Nastasi Caterina Tampini Cimifalina mamma mia ciao Francesco Mondorelli Mimmo Pillante ciao sparecchiato Francesco Casto se puoi stanno Casto amici dobbiamo condividere dobbiamo arrivare a mille riguardo Francesco dobbiamo parlare invitate Francesco qui sulla diretta ciao Daniele Conti un bacio a tutto il Belgio amici che dirvi il signor Francesco D'Aleo che parla 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 sa solo sa solo parlare sa solo bla 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 sti stanno andando su di stagione su pistola sa v fa grazie sta parlando sta parlando un po' in più sta parlando un po' in più dove io non metto tutto ciò tutto ciò perché dobbiamo iniziare insieme ho fatto il primo cd poi abbiamo fatto stasera dove ero con me e abbiamo spaccato sia e sia di lui e lui non si può permettere di parlare in più per il comandetto non esiste non esiste perciò ragazzi io qui a pubblico lo dico io intanto sto andando in Puglia oggi ho quattro impegni in un giorno ringrazio il mio pubblico ringrazio i miei fans ringrazio a tutti i colori che mi amano ringrazio il mio staff che sono qui mettiamo con me e le leblende grazie a tutti e che dirvi ragazzi io vi chiedo solo di condividere questa benedetta diretta un bacio a tutto Parco Verde secondo piano se vi le leblende vincere vincere un bacio da Marinella Meri Bellogo ragazzi che dici invitate 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 come si dà D'Aleo nella diretta dai invitatelo ragazzi io ti dico questa canzone a D'Aleo ragazzi minno ragazzi qui